ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco avena ultra calming a cosa serve avena ultra calming a un parafarmaco appartenente alla categoria degli idratanti tonificanti rassodanti multifunzione corpo è commercializzato in italia dall'azienda johnson e johnson spa informazioni commerciali titolare johnson e johnson spa concessionario johnson e johnson spa categoria di appartenenza idratanti tonificanti rassodanti multifunzione corpo confezioni avena ultra calming trattamento intensivo 50 ml indicazioni riduce il rossore e calma l'irritazione della pelle sensibile ideale per la notte viso e collo descrizione e caratteristiche le manifestazioni cutanee di intolleranza e di ipersensibilità sono attenuate grazie alla speciale combinazione di ingredienti naturali attivi in particolare il fever fever noto per le sue proprietà lenitive ed antiossidanti ha infatti estratto da una pianta resistente appartenente alla stessa famiglia della camomilla che cresce spontaneamente e nelle condizioni che ha impervie sulle montagne dell'area mediterranea coltivata per secoli come pianta medicinale nota per i suoi effetti benefici sulla pelle aiuta a ridurre il rossore e l'irritazione della pelle secca e sensibile e dalla preziosa associazione di ricchi emollienti la sua texture morbida e nutriente lo rende particolarmente adatto per la pelle sensibile irritabile risultati rossori e irritazioni sono ridotti la pelle idratata a come riparata clinicamente testato texture ricca assorbimento veloce formulato per minimizzare i rischi di allergia non come doceno testato con dermatologi componenti e ingredienti acqua glicera n c12 15 alkyl benzoate cetearil alcol dimeticone arachidil alcol crisante monpartenium feverfev flower extract pantenol sarcosine potassium aspartate benil alcol arachidil glucoside miristi l'alcol propilene glicol cetil idroxietil cellulose c13 14 isoparaffin magnesio ma spartate ceti l'alcol cetearil glucoside sodium cocoil amino acids lauret 7 stearil alcol poloxamer 338 fenil trimeticone etilene barra acrilica cid copolymer poliacrilamide silica sodium poliacrilate sodium fosfate di sodium fosfate di sodium edta pentay ritriti il tetra di tv idroxidro cinnamate fenoxietanol metilparaben etilparaben propilparaben parfum fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato